So con te preoccupato, cioè sei un pippone a due mani, ma possiamo risolverla la situazione E mappa città, dov'è che devo andare? Ecco qua, andiamo, arcovo Prof, ti aiuto io prof, non te preoccupato Chiave galassia, ooooh Boom, eh sì è Ceris, il signor Cirrus Fesfonno, questo non è che me shotta regà, una cosa superiore Sveglio per legare qualcosa sul monte corona, ma non so altro, chissà cosa stanno pianificando lassù Boom, teletrasporto, volato Mi sa che siamo arrivati Ok, allora però la situazione è abbastanza strana, perché non posso curare i miei pokemon Nandoom sta con due mosse fuoco Allora, gli damo un'iperpozione Potrei dargli l'Ethere, sì L'Ethere 2 ce n'ho 10 pp, ma sì, daglielo Ai lanciafiamme E... ti dirò, damo pure C'ho due pozioni E damo gli Empolion E intanto che cazzo ce fanno queste pozioni, via E li curano tra poco Ah Ma porco Allora, qui mi servirebbe almeno un'art... Non ho usato tanto alla fine, dai Lo streamer Ludwig si parla di un contratto da 30 milioni Tu accetteresti di cambiare piattaforma per un'offerta milionaria? Sì, assolutamente Sì, poi ma... Oh, basta sta protezione Cioè, ma poi manca a dire che... Manca a dire che stai a cambiare piattaforma per andare su una piattaforma magari come poteva essere al tempo Mixer Che alla fine è andato su YouTube Capito? È comunque YouTube Cioè... Il mio lavoro resta... Resta così indipendentemente dalla piattaforma Cioè, io lo potrei fare ovunque Poi chi mi vuole più bene mi segue Mi segue e viene con me sulle altre piattaforme Dalunque essa sia, poi Darei comunque sempre la priorità a Twitch Perché Twitch... Mi ci trovo di Cristo qui su Twitch C'è poco da fare Olè, ci siamo, guys Capo No, te sfondo il culo La catena rossa Spalancherò un'altra dimensione Dialga, mi dico... Mi dico, padre Pokémon padrone del tempo Eh no Padrone... Padrona del tempo Dove stai? Oh, shit Bam Ma guarda quanto è bello Ma guarda quanto è bello Qua sento rumori strani No, no, no Il rumore... I rumori strani Che senti... Ogni volta io me ne vado così È perché ho paura che si mangi Arrampicandosi Robbe che non dovrebbe mangiare Invece stava semplicemente mangiando i suoi giochini Cioè stava giocando con i suoi giochini Quindi va più che bene ovviamente No, rega ma non... Allora, mi spiegate come si fanno i soft reset? Perché io non sono in grado Devo chiudere e riaprire il gioco semplicemente Immagino Cioè devo salvare davanti Chiudere e riaprire il gioco Via Ma quando devo salvare? Senti, fammi salvare un attimo prima pure Perché tanto so sicuro che mi farà fare un'altra roba pure E qua avanti Grazie Grazie Vesfonno Vesfonno Oddio Boom Tocco Una sfida importante contro sti bronzor Che li bruceremo tutti Ottima questa mossa Dopo giro salvo Ok, dopo giro salvo Vai bronzor Sì però rega ne fammo Cioè massimo Massimo Dipende dalla velocità Ne fammo 40 40 sì 40 so mezz'ora? No ok Forse too much 20 vanno bene Dai Ci ho avvenenato entrambi Sto fio della mignotta Scanta anche con lanciafiamma Dovrei shottare No col cazzo Perché era Pannaggio Che trollata Ma avvenenato Tocco va in giro con Moonshlax Cioè Cioè Ma che cazzo Ma fammi fare 1v2 Cioè Ah sì Quello sta facendo Fossa Secondo me Potrebbe farla a me Fossa Se mette staraptor Che Ahahahah! Outplayed! Outfuckingplayed, b***h! Ma bella zuffa, sto c***o! Niente, sempre in HP. Cioè, zuffa, ve l'ho detto, sì. Cioè, o abbiamo la zella suprema... Meno male che gli hanno ammazzato sto c***o de' Munchlax, mamma mia che pippa, oh! Oddio, doppio sta Raptor! Fai un'altra zuffa! Me l'ha levato! Ma che sta cacciara volano tutti, ma vaffanculo va! Ma ha fatto la faiverata pure quello! Brunto! Beccate sta mossetta, va! Cioè, appena batto Gabri Ponte, salvo! Che bello era, gross c***o! E qui vorrebbe, ce vorrebbe un Lux Reizzi! Oh, io ce lo piazzo! Unzu Marzo ha batto! Unzu Marzo ha batto! Comunitore! Boom addormè! A tocco gli hanno ammazzato Tutto il team Parte fare che attacca Prima questo col corpo coda Ma fammi gli fa sta scintilla E se lo giocamo Levate Via Buono Garci un po' al 50 Eh c'è una bella media però Oh Tutti al 50 Tranne Gengar e Andum Al 46 Cioè in realtà Onesto Cioè non stiamo messi male Anzi Le dirò di più Ma vattene Affanculo va E riprova c'è Assi io te lo rifaccio Bravo Bravo L'ha shottato Così se fa Ma quanto cazzo è durato sto fight Un quarto d'ora porco zio Ah sta rosia eh Stasce Bravo Curami sti pokemon Tocco Bravissimo Poi se batte subito Ciro La moia di alga Quanto sei bello Campione Guarda che sta fa Sta a aprire Metaverse Sta a aprire Sublime Bellissimo La creazione di una nuova galassia Il mio nuovo mondo Modo scoppio Oh shit Oh shit Frey Scott Tra grazie Se vedete Ben 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 Ciro Paine Sta rosidare Che sforno ci riesce va Sta moldandosi Ma zi ci hai preso il cazzo mezz'ora fa Ma che pensi che cambi qualcosa Fammi vedere a Andu se gli fanno male Non abbastanza Questo è un problema Andu Andu Un altro lancia fiammento io lo shottamo Mi pare Buono come il panetti Erezzi Gengar 47 Dejao Vai Lux 3 Bocca va C'è sta Geridos che si Ho il suo famoso Per sashimi Scintilla in teoria di sta muore Che magna Portacci tua eh Sarà il coso per la monster elettro Come fa il soledì come fai Bonk Fatta rigiocà Andu Andu Hai tocca a te Vai campione Bello Bello Brucelo Fossa Potrebbe essere un problema Tocca usa sempre sta tattica Perché se no mo squaglia Che gli posso fa? Zuffa gli faccio male Tanto non lo shotterò mai Eole Se magnano sta cazzo De bacca Gli piace Godo Facile Non sapevo manco il zuffa Posta per 4 Boom Andu 47 Bravo Andu Robot Vai Lux 3 Bello Grobat Mamma mia Fa muovete Bello Grobat Bello insomma Meglio a pixel Che in 3D Fatto un cazzo Ok Dai Scoppiamolo Si O scoppiamo Scoppialo GG Annichilito Bello Ciro Se siamo visti Quanti soldi Mi dà Ciro Che capisse 8k Vabbè Boni Lasciamo perdere Un giorno Levate Al cazzo Coglione Augurami Cura Cura me Mortacci tua Mi devo cura io Mi devo cura brutti T-rex Di merda Ti Grazie a tutti.